Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo video voglio anticiparvi un po' di quelli che saranno i prossimi tutorial che arriveranno sul canale innanzitutto domani mattina alle 10 saranno online 7 video su git che è una cosa che mi avete chiesto in tantissimi soprattutto sul canale telegram a cui vi invito ad iscrivervi e a partecipare lo trovate come karmak group, come identificativo quindi 7 tutorial su git a cui poi si aggiungeranno altri tutorial sull'utilizzo di github che è una piattaforma web che si basa proprio su git git considerate che è uno strumento utilizzatissimo in tutto il mondo quindi è fondamentale conoscerlo soprattutto per uno sviluppatore web dato che spesso molti progetti web sono online su github e senza conoscere git non si può utilizzare github naturalmente poi tra dicembre e gennaio verranno sicuramente dei tutorial sul linguaggio C per creare applicazioni client server quindi lavoreremo su ubuntu visto che windows dà alcuni problemi quando si utilizzano certe librerie lavoreremo su ubuntu, quindi su linux e affronteremo vari esercizi delle chat, delle applicazioni client server per trasferire dei file e così via vedremo molti esercizi e anche un po' di parte teorica naturalmente perché per le applicazioni client server bisogna avere dei concetti teorici bene in mente altrimenti non si capiscono alcuni meccanismi e poi verrà una serie di tutorial sui design pattern in python preferisco utilizzare il python al posto del java che è un altro linguaggio che si utilizza spesso per spiegare i design pattern perché è il linguaggio che ho utilizzato stesso io per imparare questi design pattern quindi preferisco utilizzare quello anche perché è più flessibile e ci si può divertire un po' di più e questa serie però sarà molto lunga perché sarà molto complicato fornirvi la spiegazione teorica è un esempio pratico e inoltre i design pattern sono molti saranno forse una ventina anche di più quindi ci vorrà del tempo però che va piano passano e va lontano e noi ci arriveremo infine vorrei fare dei tutorial sul CSS su alcune pillole diciamo quindi non dei tutorial guidati da 0 a 100 però dei tutorial su alcuni meccanismi del CSS che sono complicati e che spesso i ragazzi non riescono chi si appresta all'imparare questo linguaggio non riesce a comprendere al meglio infine poi da febbraio in poi vorrei realizzare dei tutorial delle serie di tutorial sulla creazione di un prototipo di sito web mi spiego un sito vetrina per un ristorante e facciamo una serie di tutorial su come creare un sito per un ristorante poi facciamo una serie di tutorial per creare un sito web di un'azienda o di uno studio medico e così via oppure un portofolio personale quindi diciamo sono orientato verso queste tre tipologie di siti web fatemi sapere se vi piace l'idea di questi tutorial vi ripeto solo i video di git sono stati già fatti e saranno online domani mattina alle 10 gli altri devo ancora realizzarli quindi sono ben accette delle modifiche da parte vostra oppure se avete delle richieste specifiche sempre su questi tutorial che vi ho appena elencato verranno anche spero dei ask quindi dei video risposte alle vostre domande me ne fate molte sia su facebook in privato sia ogni tanto sotto a questi video sia sul canale telegram quindi mi sarà facile rispondere ogni tanto a qualche domanda ma se avete una tematica che preferite che io affronti basta lasciare un commento sotto a qualsiasi video soprattutto gli ultimi e io farò un video risposta vi auguro buone feste buon natale e buon anno e noi ci vediamo al prossimo video